... Gentili telespettatori, buonasera. È questo nuovo appuntamento per le vacanze natalizie di Telerio Nero che trasmette sul canale 39. Avrete senz'altro capito che siamo di nuovo in compagnia per Liscio Non Ti Lascio con gli amici del Liscio che passo subito a presentarti. Alla mia destra abbiamo il maestro Torino Asquino al violino. Abbiamo poi alle spalle, alla chitarra a basso, il maestro Vernotico. Abbiamo poi alla batteria il maestro Varlotta. Sul maestro Varlotta faremo poi un discorso un po' diverso perché non solo l'abbiamo visto tra gli amici del Liscio ma l'abbiamo visto impegnato anche in altri gruppi musicali. Abbiamo poi il famosissimo Boccetta che nonostante le innumerevoli trasmissioni che ha fatto con noi non si è ancora abituato alla luce dei riflettori e porta sempre gli occhiali da sole. Abbiamo poi alla mia sinistra, alla chitarra solista, un nuovo acquisto di questo gruppo. Si tratta del maestro Nino Catalano. Ebbene, fatta la presentazione che era di dover fare, passiamo subito alla esecuzione del secondo brano. Come secondo brano abbiamo, ricordo che avete ascoltato appena Zaccaria, l'avete riconosciuta senza altro tutti, ascoltiamo ora un uomo in fracchi. Signori, gli amici del Liscio. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti